Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Per Giulietta, aliasi il soprano, Francesca Pia Vitale, dopo il Totti dal Monte, riconoscimenti anche in Francia e Germania. Mi ha portato molta fortuna, sono molto felice di aver lasciato un po' di emozioni qui a Treviso, che poi le sto riprendendo in questi giorni. In scena una Giulietta in cui Francesca ha rivisto se stessa da giovanissima. Un adolescente che non si rende conto del pericolo a cui va incontro, però allo stesso tempo è disposta a tutto pur di vivere appunto il suo amore e soprattutto è disposta a morire. Nel ruolo di Tebaldo, il tenore Davide Toscano, vincitore maschile del premio. Mi sento un po' a casa, tra virgolette, poi tra l'altro portiamo l'opera che abbiamo portato a concorso e quindi si chiude un cerchio diciamo. E sul Totti dal Monte ci sono diverse novità in arrivo. Abbiamo deciso di porre appunto il concorso a cadenza biennale, la prossima edizione sarà appunto nel 2024. Il titolo a concorso l'abbiamo già definito ma non lo annunciamo ancora perché nel 2023 daremo inizio al premio La Carriera Mario del Monaco, la prima edizione. Quindi anche questa è una novità per Treviso alternata al concorso Totti del Monte.